Giuseppe D'Aumati hai vinto questa sera il concorso a Sanremo Music Awards praticamente sei uno che vince sempre i concorsi mi hanno detto Sì, chi te l'ha detto? Te l'avrà detto faccio un nome a caso Massimo Morini, che saluto e abbraccio anche se è qui vicino a noi che è il mio produttore e quindi devo a lui le mie vittorie in parte e anche alla mia attuale etichetta discografica che è la Rasti Records saluto e ringrazio nella persona di Maurizio Rugginenti ebbene sì, ho di nuovo vinto e sono felice perché vincere è sempre bello divertirsi soprattutto, quindi sono andato lì stasera con la voglia di divertirmi come sempre e poi è arrivato il risultato migliore che potesse arrivare e quindi è ancora più stimolante continuare il mio percorso verso il mio obiettivo più grande, verso il mio sogno quindi passo dopo passo, proprio per citare il singolo con il quale ho vinto stasera Cosa racconta questo singolo? Passo dopo passo è la mia filosofia di vita perché penso che nella vita qualsiasi cosa noi decidessimo di fare cominceremo sempre col compiere il primo passo, il fatidico primo passo e quindi è una vita che raccolgo questi passi verso il mio sogno più grande che appunto è la musica e appunto magari mi verrebbe da dire spontaneamente visto che ci troviamo qui a Sanremo stasera ho vinto a Villa Ormond e perché no un giorno vincere sul palco più importante che abbiamo qui a Sanremo quindi la domanda l'hai lanciata tu, il prossimo anno ci proverai sicuramente, però non vi spoilero troppo quindi vediamo in poca lupo, grazie e vive, grazie a voi ragazzi